Tra poco, Ameria Radio in diretta Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento mattutino con Buongiorno, Ameria Radio dall'ufficio comunicazione di Confartigianato Terni Paolo Pellegrini e Valentina Campana Bene Paolo, allora ricordiamo che oggi è martedì 31 maggio 2022 è il 151 giorno dell'anno, ventitresima settimana alla fine del 2022 mancano Eh, ah, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 214 giorni Evviva, bravo! Mamma mia, altro applauso, altro applauso Eccoli, 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 grazie, grazie, grazie Io Paolo inizierai subito con il dire chi si celebra oggi Sì, vai, vai, vai Visitazione della Beata Vergine Maria, San Silvio di Tolosa, Santa Petronilla, San Vitali di Assisi e Santa Ermenia di Comana Beh, oggi Diciamo che oggi sono abbastanza tranquilli Abbastanza tranquilli, quindi niente Rimane vuoto Ma sì, ma oggi niente Oggi niente, pronti domani per il fine settimana lungo Eh sì, ricordiamo che stiamo parlando del nostro relè Dei Santi Strani Dei Santi con il nome strano E certo Bene, oggi però Dove c'è Ricrude Ricrude Tercrude Tercrude Terecla Terecla E Telemaico che è il direttore Esatto Bene Paolo Andiamo alle citazioni Parliamo delle nostre citazioni Questa mattina il nostro caro amico Remig ci ha, diciamo, gratificato con la sua grande citazione Che dice Buongiorno a chi è sincero, grazie, ho trascorso una serata veramente meravigliosa, ma non è questa Grouch Max, attore, comico, scrittore e conduttore televisito statunitense Bene Ho detto bene il nome? Penso di sì, ma io ero concentrato su un'altra cosa La foto che ha mandato Ha mandato, sicuramente sì Sì, diciamo, di questo attore, comico, scrittore Sì, ma anche l'altra foto Più ne metta L'hai vista quella dopo? Sì È molto bella Va bene Sì, la presentazione del sessantesimo anniversario di Dopogigio ci ha mandato Non so per quale motivo, però Cosa mi dici mai? Perché mi piace molto Dopogigio a me Allora dice, come hai fatto a perderti la cosa di Dopogigio? E adesso me la comprerà Remigio Bene Sì, è molto bella Andiamo a vedere invece che cosa dice la nostra ascoltatrice velata Assolutamente sì Che dono straordinario, insostituibile, è la fantasia E quando sono sfortunati coloro che non la posseggono Quanto sono poveri Puoi andare dove vuoi con la fantasia Essere quello che vuoi Avere quello che vuoi Puoi inventare quello che non esiste Oriana fallaci Ma quanto è vero Oggi io sto alle Maldive, per esempio Non so tu Beh sì, anch'io Tutti alle Maldive Bene, allora andando avanti invece Cominciamo con un nuovo appuntamento Che non ci sarà tutti i giorni Ma quando ci saranno delle notizie da dare sul territorio A DT Comunicazione Oio extravergine di oliva nella frazione di palombare Nell'aia dell'azienda Sarà possibile fare una merenda Degustazione a base di olio E di altri prodotti del territorio Accompagnati dalla musica del DJ Set Quindi questa è un'ottima iniziativa Speriamo che noi possiamo essere presenti E complimenti Andiamo invece a vedere la ricetta del giorno Visto che Remigge non cucina più Esatto Oggi andiamo con un secondo Un secondo che forse costa un pochino più Delle no Degli altri Perché è fatto con il pesce Infatti sono calamari ripieni E come difficoltà è facile Diciamo La preparazione occorrono circa 40 minuti Cottura 20 minuti E adesso andiamo con le dosi per 4 persone Allora Calamari 500 grammi Uno spicchio di aglio Olio extravergine d'oliva Quanto basta 40 grammi di vino bianco 5 grammi di prezzemolo In questo è gli ingredienti generali Invece per il ripieno è importante 100 grammi di mollica di pane Un uovo 40 grammi di vino bianco 5 grammi di prezzemolo Pepe nero Quanto basta Acciughe sott'olio Parmigiano reggiano top Da crattugiare 30 grammi Uno spicchio di aglio Sale fino Quanto basta Olio extravergine d'oliva Quanto basta In qualsiasi modo Insomma si prepari questo piatto I calamari danno sempre grandi soddisfazioni Calamari fritti Calamari alla griglia Al forno E con i piselli Sono immancabili nel menù dei ristoranti di mare Da quelli più popolari A quelli più raffinati Ma sono anche una bella Una valida soluzione Per le nostre cene casalinghe A base di pesce Quindi io inviterai Remigia a cucinarcelo Visto che si diletta E noi già abbiamo fame Vabbè questo Che dobbiamo fare? Io ho già fame Iniziamo bene la mattina Sì molto bene Bene Detto ciò io Diventerai serio Che dici? Sì sono d'accordo Andiamo con la nostra rassegna stampa Eccoci qua Oggi cominciamo con il regionale del messaggero Come se non bastasse In mezzo a tutti i problemi Che ci stanno creando Il caro Bolletta Il caro Vita Ci si mettono anche i simpaticoni Che rubano 56.000 euro Contribuenti Questo è quello che ha fatto Un cassiere Dell'agenzia delle entrate Di Perugia Manchi E di 18.000 euro Ottenuti con il raggiro Del posto Che non funziona Indagine Procura carabinieri Di Assisi Ne guai anche un collega Perché voleva buttare Le prove In effetti Questo simpaticone Che lavora All'agenzia delle entrate Alla riscossione Delle cartelle Con la scusa Del posto Non funzionante Si faceva pagare In contanti Dando una ricevuta Le somme Che i contribuenti Dovano pagare Per le loro cartelle Per poi Prendere una parte Del ricavato E metterlo Nel proprio Conto corrente Questa cosa È stata scoperta Da un contribuente Anche perché Il sistema Che lui usava Era molto Molto fine Nel senso Lui diventava amico Di queste persone Che magari Ricorrentemente Andavano a pagare Le cartelle All'agenzia E con la scusa Di farli passare avanti Che li trattava Come gli amici Gli diceva Che non funzionava Il posto In sostanza Dovano pagare In contanti Solo che uno di questi Si è accorto Del problema E lo ha denunciato E a questo punto Lui con un collega Perché Il collega è stato Accusato di favoreggiamento Perché avrebbe dovuto Distruggere Le prove Andranno sicuramente A processo Quindi In 56 mila euro Quindi Parecchi soldini Si è messo in tasca Sostenibilità e ambiente Priorità sulla parole Scarsa comunicazione La sostenibilità Può attendere Stretta tra post Covid Tensioni belliche E rincari Le imprese Umbri Sembrano al perso Di vista La questione ambientale Il tema è stato Vitenziato In un TED Talk Organizzato nel capoluogo Dall'accademico Perugino Paolo Taticchi Docente Al College Di Londra E ora è Approfondito In un focus Dell'agenzia Umbra Ricerche Da Andrea Cardoni Docente Dell'Università Di Perugia Altre urgenze Stanno mettendo A dura prova La sostenibilità Prima di tutto Economica Dalle nostre aziende Ma il tema è strategico Non solo per le grandi imprese L'approccio è sintetizzato Nell'acronimo ESG Environmental Social And Governance Un insieme di standard Che definiscono il comportamento Di un'impresa Agli occhi di investitori Sensibili A temi ambientali E di sostenibilità Un tema Per Taticchi È avvertito Con scarsa Taticchi Scusate È avvertito Con scarsa urgenza E a cui è dedicato L'approfondimento AUR Io mi invito A leggere Questo interessantissimo Articolo A pagina 32 Del regionale Del messaggero Anche perché Molte piccole e medie imprese Oggi sono Sottoposte Agli audit Dei fornitori Delle imprese Che vogliono collaborare E acquistare Dalle nostre imprese Proprio sul tema Della sostenibilità Quindi è un tema Importantissimo Che va assolutamente Non sottovalutato Cambiamo argomento Nomine sanità Mancano due caselle Da riempire Ieri Braganti All'Asle 1 Per il passaggio Di consegne Con l'uscente Gentili Per l'ospedale di Perugia Scelta vicina Per Terni Probabilmente Servirà tempo Entro una decina di giorni La nomina Del nuovo direttore Regionale della Sanità Che con molta probabilità Sarà Massimo D'Angelo Entro lo stesso tempo Possibilmente Anche il nuovo direttore Generale Dell'ospedale di Perugia Per Terni Ci vorrà un po' più tempo E questa è la tabella Di marcia Su cui sta lavorando La governatrice Donatella Tesei Insieme all'assessore Luca Coletto La patina nomine Si sta sciogliendo Un pezzo alla volta Ieri intanto È stato il giorno Del passaggio di consegna All'Asle 1 Umbria Che il direttore generale E il dimissionario Gilbetto Gentili Ha accolto in sede Massimo Braganti Attuale direttore regionale Alla salute Welfare Di Palazzo Donini Che dal primo giugno Cioè domani Passerà proprio Alla guida Dell'azienda sanitaria Nel ruolo di direttore generale La visita è stata Anche l'occasione Per fare il punto Sulle attività in itine Dell'azienda sanitaria In questo momento C'erano anche altri direttori Alessandro Maccioni Massimo D'Angelo Che è attualmente Direttore sanitario Il dottor Gentili Ha ringraziato tutti Per la collaborazione E ora Si aspettano Le altre nomine Innovazione e tecnologia Al via il tour Di Acea La prima trappa Tappa a Terni Innovazione tecnologica Sostenibilità al servizio Delle smart city Acea si fa in tre Per l'innovation tour Prima tappa a Terni A seguire Napoli E poi il gran finale A Roma La tradizionale giornata Che il gruppo Acea Dedica all'innovazione Diventa per la prima volta Un percorso in tre tappe Con Terni Che inaugurerà il tour La città laboratorio In cui Acea Ha già realizzato E sviluppato soluzioni innovative Legate alla mobilità sostenibile Per orientare il tessuto urbano E il suo ecosistema Di giovani e start up Verso un futuro Sempre più green E sostenibile Questa è la motivazione Che ha spinto Acea A scegliere Terni Come prima tappa Dell'innovation tour Bene Con questo Terminiamo la pagina regionale Del messaggero E lascio a Valentina Per integrare Con il Corriere Sì Vediamo subito C'è In prima pagina Del Corriere dell'Umbria L'allarme Della Goldiretti Che perdiamo Il 30% Di raccolto Di cereali Il clima anomalo Con forte siccità E violenti temporali Mette a rischio Pure i frutteti L'allarme È proprio Del presidente Rossi E per chi fosse interessato Invidiamo a leggere La pagina 5 Andando avanti Vediamo Un test gratuito Per difendere L'azienda Di attacchi informatici È l'opportunità Che offre La Camera di Commercio Domani Il webinar Sulla cyber security Le imprese Umbre In controtendenza Mentre a livello nazionale Aumentano gli investimenti Per proteggersi Da eventuali Attacchi informatici Nel cuore verde Invece D'Italia Diminuiscono Se nel 2018 Erano il 36% Le aziende Con tecnologia Per la cyber security Nel 2021 Sono scesi Al 26% A livello nazionale Al contrario Si è passati Dal 27% Del 2018 A 36% Del 2021 In linea Con questa tendenza Anche i dati Provenienti Dalle domande Di accesso Ai voucher digitali Della Camera di Commercio Dell'Umbria Da una percentuale Dell'8,97% Di investimenti Del 2019 Si è passati Al 3% Del 2021 E per questa ragione La Camera di Commercio Dell'Umbria Ha voluto cogliere L'opportunità Di essere tra I sette enti Camerali Pilota Che per prime Offriranno Alle proprie imprese Il servizio Check up Sicurezza ET Un test gratuito Per scoprire Se l'azienda È esposta A rischi digitali E consigli Sulle eventuali Contromisure Da adottare Quindi vi ricordo L'iniziativa Verrà presentata Domani mattina Dalle 11 alle 12.30 Durante il webinar Cyber security Come proteggere La propria azienda Non c'è scritto Esattamente Come avverrà Ma credo che Nel sito Della Camera di Commercio Dell'Umbria Ci sarà il link Per partecipare A questo webinar Un'altra notizia Tabacco Premiate le start up Che guardano al futuro A Palazzo Donnini Presentate i risultati Di la seconda edizione Dell'Agritech Innovation Day Organizzata da Philip Morris Italia Green L'Umbria Cuore della filiera Svolge Svolge un ruolo Guida verso le altre Regioni produttivici Quindi Rate 6 Pronti ad accogliere Le sfide E a intercettare Le nuove necessità Sicuramente Anche questa È una buona notizia Per chi volesse Approfondire Pagina 9 Del Corriere dell'Umbria E con questo Noi terminiamo Le notizie Del regionale Ora Diamo subito Uno sguardo Alla pagina online Dei nostri amici Di Terni Today Anche se Diciamo Purtroppo La prima notizia Non è molto bella Terribile affrontare Lungo la Flaminia Morta una donna L'incidente Si è verificato Nel tratto Tra Terni e Spoleto Inutili soccorsi Per la giovane Il conducente Di un mezzo pesante Finisce in ospedale Comune di Terni Regolamentazione E tariffe Taric Facilitata La ratizzazione Aumenta il costo Del servizio Rifiuti Comune di Terni Redistribuzione Dei parcheggi A pagamento Tutte le vie Interessate Del centro cittadino Mi raccomando Leggete questo Articolo Perché è molto importante Per non trovare La multa Diciamo Sulla parabrezza Lotteria degli scontrini Va dal parrucchiere E vince 100.000 euro E questa è davvero Fortuna Complimenti Perché insomma A Terni Ha vinto Questa Bella somma Terni rieti Limitazioni al traffico All'uscita Colli sul velino Novità Viabilità Per le frazioni Di piedi luco E marmore Ci sono tante altre notizie Che riguardano La sanità Umbria Film Commission Lavoro a Terni Poste italiane Cerca consulenti finanziari Ecco come candidarsi Il post pandemia Si vive una volta sola Anche in Umbria Si registra il fenomeno Degli under 30 Che si dimettono Per un futuro diverso E ci sono notizie Che vengono dal carcere Le elezioni di Narni Economia Sport Quindi vi invitiamo A cliccare A www.ternitoday.it Ora lascio la parola A Paolo Per integrare Con le notizie Della provinciale E del messaggero È promosso dal Ministero Dello Sviluppo Economico Guidato da Giancarlo Giorgetti Ed è questo il percorso Avviato dalla cooperativa Cosp Tecno Service Di Terni Specializzata nel settore Dell'igiene ambientale E oggi pronta Ad avviare iniziative Industriali Volte a riutilizzare Materiali proveniente Dalla raccolta differenziata Il Ministro Il Ministro Ha riconosciuto Al piano aziendale Di Cosp Tecno Service 6 milioni di euro Il fondo Grande imprese È stato messo in campo Dal governo E gestito Da Invitalia E prevede agevolazioni Per il rilancio Dell'azienda Al termine Dei due anni Segnati Dalla pandemia L'obiettivo Del finanziamento Va oltre Il superamento Degli effetti Dell'emergenza pandemica E punta A sostenere Lo sviluppo Di iniziative Imprenditoriali Di valori Complimenti Alla Cosp Che è un'azienda Di respiro nazionale Non solo locale E quindi Sicuramente Userà al meglio Questi fondi Messi a disposizione Appalto Sicurezza Lavoratori Inbilico Presidio Sciopero Incontro Con AST Ne avevamo parlato Ieri È stata Una giornata Di sciopero Per gli esuberi Che si dovrebbero Diciamo Avere Nella sicurità L'azienda Che segue La sicurezza All'interno Dell'AST In quanto La stessa Internalizzerà Alcuni servizi Di sicurezza E vigilanza Però A conti fatti Forse diventeranno 40 Entro la fine Dell'anno Le persone Che rischiano Il posto Di lavoro Per appunto Queste situazioni I sindacati Che ieri Hanno partecipato Allo sciopero Chiedono L'incontro Ad AST Per cercare Di salvare Le posizioni Di queste 40 Famiglie Lotteria Degli scontrini Come diceva Valentina Prima Su Terni Tottei Vince 100.000 Euro Per un acquisto Fatto dal parrucchiere Ha vinto 100.000 Euro Spendendone poco più di 30 Presso un parrucchiere Di Terni È successo grazie Alla lotteria Degli scontrini La donna Si è quindi presentata Presso l'ufficio Di Perugia Dell'agenzia Della Cise Dogane Monopoli Per consegnare La documentazione Visibilmente emozionata La signora Ha lasciato una lettera Al funzionario Dei monopoli E È detto In una nota Dell'ente Con la quale Ha sinteticamente Ripercorso La sua avventura Mi sono iscritta Alla lotteria Degli scontrini Ha spiegato dal primo giorno Sinceramente Ero scettica Sulle possibilità di vincita Tuttavia Ho sempre utilizzato Il mio codice In tutti i negozi Dove faccio acquisti Ho ricevuto il premio Facendo una modica spesa Nel negozio preferito Dalle donne Il parrucchiere Non ho ancora realizzato Questa vincita Che lo utilizzerò Per tanti piccoli progetti Con la mia famiglia Al titolare Dell'esercizio Però Andranno 20.000 Euro Beh Non c'è male Anche per l'esercizio Ah ma Lo Stato Fa questa cosa Oppure la signora Che è riuscito No lo Stato Lo sa Beh comunque È una buona cosa È un'ottima cosa Noi c'è Niente Non siamo noi No non siamo Peccato Forse il re Mi giù è manovoso No non è una signora Al senato L'applauso Per gli studenti De Donatelli Sì finalmente Dopo il blocco Per la pandemia Donatelli è riuscito A tornare A seguire una seduta Di 45 minuti Al senato Del repubblica I ragazzi Sono stati accolti Da un lungo applauso Dell'aula E le professoresse Che Li hanno accompagnati Sono molto soddisfatte Perché finalmente Si riesce A far riavvicinare I ragazzi Perché questo È lo scopo Del progetto Alle istituzioni Per far capire Anche com'è Il funzionamento E quindi È importante Che questo Avvenga anche In presenza Broker Trasferisce tutti I risparmi Di un anziano Nel suo conto corrente A scoprire Da giro Il figlio Dopo la morte Del settantenne Altre 20 persone Vittime Del promotore fidanziario Sì Si approfittava Diciamo Della fiducia Che aveva presso I malcapitati Perché Per esempio Per quanto riguarda Il settantenne Il broker Era amico Il migliore amico Del figlio Tant'è Che Lo stesso Settantenne Aveva Dato 100.000 euro Al broker Per investire In modo tale Da ricevere Gli interessi Adeguati Sui prodotti Che lui avrebbe Ritenuto Opportuno Tutto ciò È accaduto Con tante altre persone Ma Lo stesso Figlio Di questo Settantenne L'amico L'amico del broker Ha scoperto La problematica Che questi soldi Andavano direttamente Nel conto corrente Del broker Ed è riuscito Grazie al proprio avvocato A riavere indietro La cifra Immaginate Quindi Anche gli altri 20 Che adesso Devono Provare A Diciamo A farsi restituire Il mal tolto Immaginate che Alcuni Davano addirittura Segni in bianco Altri Davano l'accesso Al proprio conto corrente Online Da cui lui Si faceva Dei bonifici Insomma Un broker Di quelli proprio Arrembanti Di quelli proprio Raccomandabili Unesco Il posto di San Patrizio Di Orvieto Entra nella reddita Mondiale dei musei Dell'acqua Sì Dall'annuncio Di questa bellissima notizia La sindaca Tardani Il capolavoro Che è stato realizzato Da Sangallo Ritrova la sua Dimensione storica L'importanza Di questo riconoscimento È che In tutto quello Che Verrà Fatto Per la promozione Di questi Dei musei Dell'acqua Riguarderà quindi Anche il posto Di San Patrizio Di Orvieto Che Si spera Accoglierà Ancora più turisti Di quelli Che già Vengono A visitarlo Questo è Un monumento Importantissimo Di grande ingegneria Quindi È un vanto Per la nostra Provincia E per la città Di Orvieto Terrorista Islamico Aggredisce Cinque agenti In carcere Ne avevamo parlato Qualche giorno fa La stessa persona Che aveva Aggredito Un Una guardia Penitenziaria Con dei manubri Da palestra Dopo quel fatto Il detenuto È stato Combinato il trasferimento In altro carcere Al momento Del trasferimento Ha aggredito In maniera Violenta La scorta Che lo metteva Nel furgone Continuando Continuando Anche dentro Il furgone A dare In escandescenza Creando Ferite A cinque Degli agenti Che lo Stavano Accompagnando Nella nuova Destinazione Questo Come già abbiamo Detto L'altra volta Fa Riemergere Il problema Della formazione Delle Guardie Penitenziarie Del sottorganico Che si sta Vivendo Nelle nostre Carceri Questo ogni volta Che accade Una situazione Del genere Viene Riportato Giustamente Alla Ribalta Svelata La copia Del tirus Ora Il drago D'acciaio Svelata La copia Del tirus Via il drappo Rosso È partito L'applauso Degli studenti Del medelli Presenti Nell'auditorium Del liceo Artistico Di Terni Ora Il passo Successivo Sarà Trasportare La copia Nei prestiti Giardini Via Campo Fregoso Dove si trovava Il tirus Originale Prima Che venisse Spostato Nel cortile Di Palazzo Spada Ora La copia Realizzata In resita Dovrebbe tornare Proprio Nei giardini Di Via Campo Fregoso Ma non esattamente Nello stesso punto Dove si trovava Prima Spostamento Che dovrebbe avvenire Nelle prossime Settimane Chiuso il capitolo Copia del tiro Si è già pronto Il secondo capitolo Della saga Dedicata ai draghi Lo ha annunciato Ieri L'assessore Cristiano Ceccotti Realizzeremo La prima opera Pubblica Che sia mai Stata creata Con i patti Di collaborazione Si tratta Di un monumento Raffigurante Un drago Che coinvolge Trenta partner Ed è nata Da un'idea Di giovani Professionisti Un drago Di acciaio Che sarà collocato Al centro Della rotatoria Che si trova Davanti all'ingresso Del caos Insomma Abbiamo cominciato L'era Dei draghi Bene Valentina Con questo termino La rassegna Stampe Sì la rassegna Stampe La parte provinciale Messaggera Lascio a te Per integrare Sì Paolo Come dicevamo Da Terry Today Il consiglio approva La manovra Sulla Tari Che rincari In vista Per il servizio Di raccolta Di rifiuti Urbani Ma ci saranno Sconti Per le fasce Sociali Meno ambienti Quindi aumenta Il consumo Del servizio Di rifiuti Ma arrivano Anche Agevolazioni Sconti Ieri il consiglio Comunale In vista Della prossima Approvazione Del bilancio Di previsione Ha dato L'ok A due atti Relativi Alla Taric La tariffa Sui rifiuti Corrispettiva Ci si basa Sul PEF Il piano economico Finanziario 2022-2025 Approvato All'Assemblea Dei sindaci Di Auri Per le utenze Occorre Ripartire 23 milioni 524 mila euro Con un incremento Dunque Dell'8,51% Rispetto al 2021 Invito tutti A leggere Questo articolo A pagina 32 Oppure A cercare Le notizie Che il comune Pubblicherà Per quanto riguarda Le agevolazioni Perché c'è proprio Una lista Di numeri Quindi vi invito A leggere A pagina 32 Comune Alvie Lavori Per sistemare Le strisce pedonali Città divise In quattro aree Edite Lavoreranno In contemporanea Precedenza Alla segnaletica Orizzontale Di fronte Alle scuole Quindi manutenzione Interventi Programmati Tra la primavera E l'estate L'assessore Scarcia Caratteristiche Particolari Per le Vernici Da utilizzare L'economia Dopo il covid Esperti A confronto A guarda L'iniziativa È stata organizzata Da Lions Club Terni Host E ospite Di questa Serata Anche Mauro Franceschini Presidente Di Confartigianato Imprese Umbria Vacanze Gratuiti Del mannerina Per bambini Malati E famiglie Torna L'appuntamento Con il progetto Di abbraccio Con un sorriso Quindi l'associazione I pagliacci Si appresta A dare il via Alla seconda edizione Del progetto Di abbraccio Con un sorriso Anche questa estate Regaleranno Vacanze Bambini oncologici Alle loro famiglie Un progetto Che vede La collaborazione Del comitato Daniele Chianella Di Perugia A cui affidata La scelta Dei bambini Che per le condizioni Di salute Possono fare La vacanza In Valnerina In prima linea Appunto Sono queste due Associazioni Che vogliono Far sorridere Questi bambini Lo scorso anno Ha avuto Un grande successo Perché i bambini Si sono divertiti E hanno davvero Sorriso E vediamo Che nel progetto Sono coinvolti Comuni di Terni Errone Montefalco Ferentillo E Polino Ottima iniziativa E compimenti Al lavoro Che fanno Queste associazioni Per questi bambini Ma anche per Gli adulti Che comunque Purtroppo Si trovano a combattere Con delle brutte malattie Assolutamente Si Con l'ultima notizia Che non darò Perché Paolo L'ha già annunciata Che il Pozzo Di San Patrizio Entra nella rete Dell'UNESCO Possiamo terminare La nostra rassegna stampa Bene E noi diamo L'appuntamento A domani Per l'ultima La stessa stampa Della settimana Poi Con Fartigianato Farà appunte Questa settimana Sul ponte di Bassano Bene Ok Vi auguriamo Una buona giornata Buona giornata a tutti Grazie Stanco di perdere tempo E denaro Per le bollette Di energia e gas Le energie Senza fatica Sono qui Cempi Un partner affidabile E tutta l'assistenza Di Con Fartigianato Per la tua casa Per la tua azienda Contattaci subito E inizia a risparmiare Cosa aspetti A risparmiare Contatta Il nostro referente Lorenzo Carrino All'indirizzo Madeenergia Chiocciola Confartigianato Terni Punto it O al numero Telefonico 0744613311 Per la tua azienda E inizia a risparmiare E inizia a risparmiare Cosa aspetti Grazie a tutti